Ciao a tutti ragazzi ed eccoci trovati qua in un nuovo video Oggi siamo qua in un gioco molto bello Call of Duty Che molti di voi avranno provato Però io ce l'ho questo qua dal telefono E non è tipo sul pc, sulla play Quindi è un po' diverso Però è quasi praticamente uguale Solo un po' diverso Oggi vogliamo andare a vincere un po' di partite? Sì 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 Capitano, capitano Allora Bellissimo Però voglio fare questa Un antigiocatore Di una squadra casuale Sì Vediamo un po' Che capitano Ah già io sono di livello 10 Questi qua sono di livello 7 36, 36, 13 Oddio che bella skin Questa Seleziono questo Seleziono questo Iscrivete sotto nei commenti se ce l'avete anche voi questo Call of Duty Dove sono? Dove sono? Dove sono? Sono qua Oddio che arma Oddio che arma Balla No Non ci credo Ci risiamo Attenzione Attenzione Che sono tutti qua Pensavo che era un nostro compagno questo Dove sono? No No Dan Non è possibile Non lo accoppio Manco una volta Oddio Allora Cos'è? Ah no Questo No Ancora no Dom Aiuto Coprimi compagno Aiuto 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 Eccolo C'è uno Morto Bella è starmi Ricarico Allora Oddio quanta gente Sì vabbè Ciao Mari No Dov'è? Dov'è? Mi stavo colpendo Brutto Aspetta Non ci si può colpire Da che tra compagno Non ho capito Non ho capito manco una volta Faccio schifo Comunque A parte questo Dai Sì Stiamo andando bene Stiamo vincendo 22 a 14 Dove sono? Dove sono? Dove sono? Dove sono? No Non ho colp... Come? Si è salvato Come? Ok Allora Allora Bello Scrivetevi 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 sotto Scrivetevi sotto Se lo volete Per forza Se lo volete Anche se lagga Ve lo faccio Quindi per favore Rispondetemi Grazie Allora Ma scusami No No Ma dai Oh Ci hanno recuperato No eh No eh Nonna Non si deve fare così Stiamo andando male Ah per favore Ragazzi Allora Fatemi arrivare A 30 A 30 iscritti Così farò Uno speciale 30 iscritti Porterò un video Dove faccio Lo speciale 20 iscritti Quindi Per favore Arriviamo a 30 iscritti Ponto su di voi eh Allora Dove sono? Una granata Abbiamo vinto Abbiamo vinto Vittoria Per pochissimo Grandi Grandi così L'ultima uccisione Guardiamola un po' Oh bellino Allora Io direi che per questo video È tutto Iscrivetevi al canale Mi raccomando Tutti 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 Lasciate tantissimi mi piace E noi ci vediamo domani O stasera Con un prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi